Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di... Minecraft! Ok, vi volevo far vedere il nuovo aggiornamento che ha fatto mia sorella però non l'ho visto, quindi vediamo Ah, sono anche libri adesso, no, incredibile Allora, leggiamo All'inizio C'è più divertimento in Minecraft e Xbox Per questo vorremmo divertirci insieme a voi da questo episodio Ci divertiremo ancora di più Questo aggiornamento ci potrà far divertire molto di più Perfetto E infatti, quello che volevo dire però Comunque Sono tante... Bello, che cavolo è successo, vabbè Allora, ci sono tante cose, ma va bene Cioè, non ci sono tante cose, ma va bene, sarà più divertente Insieme a voi E infatti, questa è la fine, quindi credo di leggerla alla fine Perfetto, allora, di Zungla Guardate che bello Di Abete Uh, di Abete è il mio preferito, ma anche di Betula Ah, di Abete, certo, di Zungla Di Zungla Ok, vediamo cosa c'è con il muro Per chi è colorato Comunque Non finisce qui Non abbiamo finito con i legni Ma adesso, ma adesso niente Adesso non ci sarà niente dentro questa volta Mi fa paura La lana La lana Perfetto, la lana Aspetta, c'è qualcosa dentro? Non mi dico No, i vetri colorati li amo I vetri colorati Da tantissimo tempo che volevo i vetri colorati E adesso, dopo questo aggiornamento, ci sono No, li amo Potreste riguardare questo Cioè, questi colori Cioè Tantissimo tempo Ma qui praticamente era colorato Perché è Infatti Ah, sì Mi ha parlato Mia sorella Che dovevo far vedere una cosa Sì Con Nero Allora Nero all'inizio Dice Mi ha detto Così Nero All'inizio Poi Così Vuoi far così Dopo toglierli Ah, sì Infatti Mi avevi detto Che qui cambia Cioè Cambia perché è un po' più nero E poi diventa blu Bello, bello Mi piace Comunque Vedete qui Non c'erano molte cose Però Questo scobaletto Mi piace davvero tanto Cioè Vabbè Quindi Leggiamo la fine Suppongo No? Già per chi l'ha fatto così piccolo Lo poteva fare con più resistenza Tutte le cose Vabbè Non ci importa perché siamo in crea Dico Però leggiamo Allora Grazie Ah Ok 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 Ho capito Allora Quindi Abbiamo Finito E Leggiamo E grazie di essere stati con noi Alla prossima Ciao Ciao